La relazione tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e Donne ma fuori già mesi prima dell'ultima puntata, continua a far parlare di sé e non solo per presunte crisi. Solo presunte perché a giudicare dagli ultimi post allegarli c'è solo un grande amore. Hanno festeggiato da poco i cinque mesi di storia d'amore e poi, insieme al figlio di lei, il compleanno della dama. Ma ora è una delle ultime storie di lei ad aver attirato attenzioni. Una foto che per molti suoi sostenitori toglie ogni dubbio sul fatto che l'amore con Alessandro Vicinanza procede a gonfie vele, quella della pancia che ha fatto subito sorgere il sospetto che la coppia stia aspettando un bambino. Che ci sia stabilità è fuori discussione. La coppia sta trascorrendo l'estate tra mini vacanze e gite al mare di Gaeta, come mostrano le numerose foto sui social media pubblicate da entrambi. Ma nell'ultima Roberta si immortala al mare, in costume, con in braccio la sua cagnolina che copre leggermente la sua pancia. Ci siamo tutti ma proprio tutti, con tanto di cuoricino la frase che accompagna lo scatto che per molti lascia intendere una possibile gravidanza. Questa ipotesi non è del tutto infondata, considerando che Alessandro Vicinanza ha sempre espresso il desiderio di avere un figlio. Lo ha ribadito anche a Verissimo. Un desiderio condiviso anche da Roberta Di Padua, che ha già un figlio nato da una pretendete relazione ma non ha mai nascosto il desiderio di una nuova maternità. Per ora, però, la foto che ha scatenato il gossip resta senza ulteriori conferme o smentite. La coppia non ha fornito altri indizi.